Buongiorno e benvenuti sul mio canale. Per il caffè scrap di oggi parleremo di paper rosette e parleremo di paper rosette che andremo a creare noi da zero. Come sapete esistono diverse fustelle che ci consentono di creare paper rosette anche di diversa forma, il bottale coccinare galate diverse che ci consentono di fare anche per esempio dei cuori. Non andrò a vedere come assemblare quelle perché il meccanismo poi di assemblaggio è lo stesso, volevo farvi vedere come creare una piccola paper rosette, anche grande in realtà, partendo da una striscia di carta. In questo caso vi racconto un po' quello che è frutto di vari esperimenti, di tentativi fatti e io ho trovato questa quadra numerica di calcolo che detto da me è poco credibile però mettiamola così, che mi consente di realizzare una paper rosette della misura corretta affinché si possa chiudere. Allora partiamo da una striscia di carta, decidiamo che dimensione vogliamo che la nostra paper rosette abbia. Io ho tagliato una striscia di carta alta 3 cm, scusate sta passando un Erly Davidson probabilmente, ho tagliato una striscia di carta alta 3 cm e quel 3 cm sarà il raggio della mia paper rosette. Facendo vari esperimenti senza nessun tipo di base scientifica per il calcolo che vi racconterò adesso, ho appurato che la striscia di carta che mi occorre per realizzare una paper rosette in grado poi di chiudersi e della misura del raggio moltiplicata per 8 volte e mezzo quindi 3 cm per 8 e mezzo, l'ho fatto prima con la calcoltrice, sono 25,5 cm. Perché mi serve questo calcolo? Perché in realtà ho provato ad abbozzare diverse volte senza un calcolo precedente, senza una stima di quella che poteva essere la lunghezza necessaria e la paper rosette veniva troppo stretta, troppo poca carta e non riuscivo a chiuderla o era troppo grande. Attraverso vari tentativi ho visto che questa per me è la proporzione corretta. Ci siamo arrivati forse in un live dopo una serie di tentativi piuttosto infiniti ma ci siamo arrivati. Allora, che cosa vi serve per realizzarla a mano? Vi serve una striscia di carta, non troppo spessa, non userei la mia 260 grammi perché è troppo spessa, la 200 potrebbe andare, il bazil va bene, vanno bene le carte un pochino più sottili, un 180-200 grammi tendenzialmente vi permetterà di realizzare una bella paper rosette. Io avevo usato diverse carte di doodle bag in un live e avevo realizzato delle paper rosette molto grandi. Quando realizziamo paper rosette molto grandi, quindi per cui non ci basta la striscia di carta che possiamo ricavare dal taglio di una singola carta, andremo poi semplicemente a aggiungerle una sull'altra. Ci serve poi uno strumento per fare le pieghe. Le fustelle che ci consentono di fare delle paper rosette fanno una serie di pieghe. Noi le faremo a mano. Ora, se siete molto 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 precise, potete usare la taglierina e cordonare a una distanza uguale una dall'altra. Io di solito uso il quarto di pollice perché uso sempre uno scoring board. Io uso uno scoring board, ovvero una tavoletta per fare le pieghe, perché con la taglierina non mi vengono mai bene le pieghe e tutte queste cordonature non sono mai veramente qui distante una dall'altra. Questo sgrazia un po' la mia paper rosette. Invece con la tavoletta per fare le pieghe sono certa di non andare a incorrere in questo tipo di errore. C'è anche da dire che io cordono sempre dai piedi, guardando dal telefono, quindi è più complesso. Si può fare anche dalla taglierina, dovete essere un pochino più precisi. Se avete la tavoletta per fare le pieghe, io vi consiglio di usare quella. Io generalmente faccio le pieghe a un quarto di pollice, perché mi sembra che sia un'aletta di una bella dimensione e quindi procedo. Un quarto di pollice, un pollice, vado avanti. Volendo potreste farlo anche di mezzo pollice e mezzo pollice. Io questa volta la faccio un pochino più piccina e vado, uso un bulino invece di una pieghetta. Questa è una mia carta da rivestimento, il cui spessore va assolutamente bene, è perfetto per realizzare le pepe rosette. Non è né troppo leggera e neanche troppo rigida, quindi si piegherà benissimo e mi consentirà di chiuderla senza grossi problemi. Finiamo di fare tutte le nostre pieghe e adesso la pieghiamo tutta. Semplicemente facciamo questo, viene piegata a fisarmonica. Avendo fatto le pieghe con la tavoletta, il risultato dovrebbe essere pressoché perfetto. Se qualcuno di voi ha seguito i miei live nel tempo, ha visto che quando ho provato a farla con la taglierina, il risultato non è stato altrettanto perfetto, diciamo. Si può fare lo stesso anche se non sono proprio perfettamente equidistanti, però ovviamente il lavoro è un pochino meno aggraziato. Questo è il risultato. Quando siamo a questo punto ci occorre unire queste due estremità. Cosa usiamo? Usiamo del biadesivo. Per praticità io incollerò questo segmento così, di modo che si sovrapponga. Metto quindi qui il mio biadesivo che è più largo, ma guardate è perfetto perché così in realtà mi tiene ferme entrambe. Vedete? Lo sovrappongo così e così ho dato continuità alla mia peperosette. Cosa mi serve adesso? Allora ci sono varie scuole di pensiero sulla chiusura delle peperosette. A me è stato insegnato a chiuderle in questo modo e l'ho sempre fatto così e trovo che sia il metodo più facile e veloce. Vi serve la colla a caldo oppure un buon punto di colla molto forte. Adesso lo proviamo sia con la colla a caldo che con il punto di colla. Facciamo la prima prova con il punto di colla. Allora un'altra cosa che vi serve è un cerchietto. Io adesso ho punciato due cerchietti scallop che ci serviranno per la chiusura e poi per decorare la nostra peperosette. Per quanto riguarda la chiusura io vado a mettere il mio punto di colla qui. Ne prelevo anche due. Ok. E lo lascio qui. Cosa devo fare? Questa operazione che sto per fare è un pochino drammatica, traumatica per molti, ma vi assicuro che lei non patisce. Si appiattisce in questo modo. Quando è appiattita in questo modo si porta qui sopra e si ferma. E il punto di colla la tiene in posizione. Dopodiché metto un altro punto di colla sull'altro tondino e la chiudo. E in questo modo ho una coccarda per decorare un sacchetto, per decorare un layout, oppure per far una lollipop. Questa è da 3 cm di raggio ed è molto carina. Mentre la mia colla a caldo si scalda proviamo a farne una più grande. Ho tagliato due strisce da 6 cm di modo da avere 50 cm finali. Quindi le mie strisce sono circa 51 cm di modo da avere un pochino di sovrapposizione. Vado a fare le pieghe. A questo punto potrei anche farle una volta ogni mezzo pollice. Così viene un pochino più grande. Così vi faccio vedere anche come giungerle. Questo è un buon modo per usare magari strisce di carta che non sapete come riutilizzare. Vi ho preparato una serie di coccarde colorate che possono poi andare a decorare. Layout, card, bustine, sacchettini per il packaging. Io lo usavo tanto per fare il packaging. Sapete che il packaging è uno dei miei primi amori e quindi ogni tanto ci torno su. Sono un elemento decorativo tridimensionale facilissimo da realizzare e possono essere fatte anche molto grandi. Così. Adesso le pieghiamo tutte. Dopodiché le aggiungiamo. Ho fatto le mie pieghe e adesso incollerò questi due lembi in questo modo di modo che siano continuative le due strisce. In questo caso uso un altro pezzettino di via adesivo e in un attimo le avrò unite. Adesso unisco le mie due parti. Le unirò in questo modo come ho fatto prima. A questo punto ho la mia coccarda pronta. Allora, quando avete una coccarda già di queste dimensioni non è pensabile chiuderla con un punto di colla. La potete chiudere con un punto di colla quando è più piccina. Con questo peso di carta è necessario usare la colla caldo. Almeno io la so chiudere solo con la colla caldo. Quindi prendo il mio tondino ma posso anche non usarlo. Anzi, guardate, lo facciamo direttamente sul piano di team. Mettiamo un bel cucciunin di colla. Cucciunin è un'unità di misura che a breve verrà introdotta. La faccio aderire proprio lì e la chiudo tenendola ferma di modo che la colla rimanga imprigionata lì nel forellino. Quando la colla perderà temperatura ovviamente terrà ferme tutte queste punte delle pieghe che io ho fatto e quindi la coccarda rimarrà in forma. Non ci sarà bisogno di fare altro. Tanto che lei è ferma, aggiungo un altro micro cucciunin di colla qui e aggiungo il cerchietto che finisce la decorazione. Allora, io ho usato la colla direttamente sul piano di team. Quando si raffredderà riuscirò a staccarla senza nessun problema. Potete usare un tappetino in silicone, potete usare la carta da forno, potete mettere la colla direttamente sul tondino così che non abbiate il problema della superficie su cui la colla poi va a colare. Se avete il piano, un piano in vetro temperato, non dovete porvi il problema. Vedete, abbiamo staccato la nostra coccarda, io aggiungo di nuovo un briciolino di colla qui, semplicemente per far aderire il secondo tondino e chiuderla. La mia carta è bianca dall'altro lato, quindi difficilmente avrò bisogno di usarla, però in questo modo starà tutto ben fermo. Noi abbiamo usato una carta monofacciale, se fosse bifacciale potreste usarla per fare una lollipop card, sarebbe perfetta. Potreste anche usare due strisce di carte diverse, avevamo fatto un lavoro con le carte della doodle bag per un Halloween, giungendo carte diverse. Tre porzioni per coccarda, erano venute coccarde molto grandi, l'effetto era bellissimo. Non so se qualcuno si ricorda questo video, è un lavoro facilissimo da fare, che potete fare anche con i bimbi, fa decorazioni in un attimo, è bellissima. Ora, per una spilla è un po' grande, però può essere un bellissimo elemento decorativo per un sacchetto, su cui magari poi utilizzate una striscia di carta punciata, un po' di washi, qualche altro piccolo abbellimento, una timbrata, e il vostro pacchettino regalo è pronto. Spero che il video vi sia stato utile, magari non avete mai fatto una coccarda a mano, però è assolutamente possibile farla con pochissimo sforzo. Ci sono altre tante fustelle che fanno forme diverse e sono ovviamente un po' più pratiche, vi fanno anche magari pieghe un pochino più piccoline, che magari a mano è difficile ottenere, e quindi ci consentono di realizzare una migliaia degli elementi decorativi che poi possono essere sfruttati in tanti modi. Spero che il video vi sia piaciuto, che magari proviate a fare anche qualche coccarda da soli, da unire insieme alle altre che possiamo creare con le fustelle. E fatemi sapere se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, così da ricevere sempre tutti gli aggiornamenti rispetto ai video che carichiamo, e magari lasciatemi un commento, io appena riesco rispondo a tutti. Grazie mille e buona giornata!